Oggi, giretto con la Marti, partenza dai laghetti di Corredo e Tavon, destinazione San Romedio e ritorno. A dopo! Grazie a tutti! E dalla parte opposta di Due Laghetti, l'indicazione per il santuario di San Romedio. Andiamo! 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 Eccolo! E come sempre, dietro la curva c'è la meta. Eccolo il santuario di San Romedio. Andiamo a vedere se vediamo l'orso. Bellissima passeggiata nel bosco, l'unico tratto esposto è quello all'inizio dei due laghi ma in poco meno di 20-25 minuti ci si addentra già al fresco. Siamo stati veramente bene, al santuario siamo stati fortunati perché l'orso era fuori, l'abbiamo visto, ci siamo rilassati un po', la Marti ha fatto merenda e adesso torniamo indietro. Consiglio sicuramente lo scarponcino da trekking perché la discesa non è assolutamente pericolosa ma un pochino scivolosa sì. Non so se si riesca a fare con i passeggini da trekking, non credo, noi con lo zaino siamo andati veramente tanto bene. E quindi dai boschi della Val di Non e del santuario di San Romedio, direi che ci salutiamo e ci vediamo alla prossima passeggiata. Ciao! Ah mi stavo quasi per dimenticare, al ritorno le indicazioni sono Tavon, due laghi. Ora vi salutiamo davvero, ciao!